Fegentlemen, stasera in tv 12 gennaio su Rai 2 alle 21.20 il film d'azione e commedia del 2020, diretto da Guy Ricci con Matthew McConaughey e Hugh Grant Che Dio ci aiuti 7, stasera in tv, anticipazioni della prima puntata L'addio di Elena Sofia Ricci. Amo Suor Angela. Ma ecco perché ho lasciato, Fegentlemen, stasera in tv. La trama La trama L'investigatore privato Fletcher, si intrufola nella casa del gangster Raymond Smith, per raccontargli come il cliente che l'ha assoldato, il re dei tabloid Big Dave, abbia voluto vendicarsi del suo capo, il più importante trafficante di droga di Inghilterra, l'americano Mickey Pearson Mickey Pearson, il re della marijuana di Londra, decide di ritirarsi dal crimine Americano, Pearson ha scoperto la sua vera vocazione da trafficante di droga, quando era solo uno studente Fletcher, riferisce di come Pearson abbia offerto il suo regno al miliardario Matthew Berger, desideroso di mollare tutto e ritirarsi con la moglie e socia in affari Rosalind Raymond in realtà conosce perfettamente la storia, e sa che Fletcher è venuto per ricattarlo con le prove di un omicidio tenuto nascosto Ma è solo l'inizio di una serie di tradimenti e rivelazioni che coinvolgono anche un trafficante cinese, un miliardario russo ex spia del KGB, e lo strambo gangster di quartiere Coach, a capo di una band di rapper e lottatori Sanremo Mediaset sfida la Rai Nella settimana del festival in onda anche il GF VIP e c'è posta per te il cast Matthew McConaughey, e Michael Pearson, Charlie Annan, e Ray, Michelle Dockery, e Rosalind Pearson, Jeremy Strong, e Matthew, Lynn René, e Jackie, Colin Farrell, e il coach, Henry Golding, e Dry Eye, Tom Wu, e Lord George, KGB, a UFO, e Bunny, Hugh Grant, e Fletcher, Simone R Barker e Frazier, come Simone Barker, Eddie Marsan, e Big Dave, Jason Wong, e Fook, John Douglas, e Amy, Jordan Long, e Barman, Lily Frazier, e Lisa The Mechanic, Gershwin e Eustache, Ilunga N.R. e Roger, Samuel West, e Lord Presfield Ilunga N.R. e